Buon pomeriggio e benvenuto in questo nuovissimo video relativo ad Amazon. Come sempre, prima di suffarmi nel video di oggi, voglio ringraziarti davvero di cuore per la tua presenza, per il tuo tempo, per il tuo supporto, insomma, per accompagnarmi in tutto questo percorso. Inoltre voglio ricordarti e invitarti ad iscriverti al canale YouTube e a lasciare un like se questi video ti piacciono. Comunque, come vedi, escano ogni martedì e sto cercando di darti il più valore possibile gratuitamente. Inoltre, se già sei un seller o un account manager, valuta di entrare nella community leaf, troverai il link nel primo commento. Oggi che cosa andremo a vedere? Ricerca del prodotto, perché ho fatto, ora non so se l'hai visto, ma ho fatto un sondaggio qua sul mio canale YouTube nella sezione community, dove appunto sono andato a chiederti quali erano, diciamo, i video su cui eri più carente, diciamo, i contenuti su cui eri più carente che potrebbero aiutarti. E te hai fleggato, o comunque, se non l'hai fatto te direttamente, gli altri utenti che guardano i video, hanno appunto fleggato ottimizzazione pagina prodotto e ricerca di mercato. Tra i, diciamo, le risposte più fleggate, più date. Quindi oggi, dopo aver fatto due video sull'ottimizzazione della pagina prodotto, di cui ti linko va sopra l'ultimo, vuoi andarti a far vedere la ricerca di mercato. Ecco, attenzione che per vendere su Amazon, sia che sei all'inizio, sia che tu già hai un'azienda, devi scaricare Helium 10. Ora, ci sono anche altri software, però io ovviamente parlo per quello che io personalmente utilizzo da anni e che consiglio a tutte le aziende. Mi raccomando, scarica Helium 10. È fondamentale e lo puoi trovare qui nel primo commento con il 20% di sconto sui primi sei mesi o il 10% di sconto a vita. Mi raccomando, fondamentale la versione Platino, che è questa che ti sto facendo vedere adesso. È fondamentale sia, ti ripeto, che tu stai cercando prodotti che ancora devi andare a vendere o anche se hai già il tuo listino di prodotti nell'inventario e vuoi caricarli su Amazon, ti servirà per andare a capire su quali di quei prodotti c'è effettivamente una domanda. Perché se non c'è una domanda, puoi valutare magari di inserirli in un secondo momento o comunque di non inserirli. Quindi, attenzione, è fondamentale poi oltre ovviamente ai software e all'analisi dei dati, è importante fare sempre ciò che sentiamo, ciò che senti. È la cosa più importante perché è così che poi si ottengano risultati costanti nel lungo periodo. Bene, andiamo a vedere, sempre da Helium 10 quindi, questa qua è la sezione di Helium 10, tra i tool per fare una ricerca di mercato. Quindi partiamo da Blackbox. Quindi Blackbox è lo strumento di Helium 10 che ci permette di andare a fare una ricerca di mercato. Adesso ti farò vedere il modo che personalmente consiglio ed è quello secondo me più semplice, perché utilizziamo direttamente i filtri di Helium 10 per fare una scrematura totale. Adesso c'è, come vedi, si può cercare direttamente i prodotti, parole chiave, concorrenti, eccetera. Ecco, ti farò vedere il metodo che secondo me è migliore, ovvero la ricerca per parole chiave. Perché? Perché i clienti cercano parole chiave all'interno di Amazon, non cercano prodotti in sé. È vero che un cliente sta cercando un prodotto, ma su Amazon sono parole chiave. Quindi a noi ci interessa trovare quelle parole chiave che possiamo andare a utilizzare per creare o ideare o caricare un prodotto differenziato. Quindi andiamo su parole chiave. E che cosa facciamo? Qua ci sono diversi filtri. Ecco, qua dipende sostanzialmente da noi e ti consiglio di testare, fare quello che vuoi. Quindi, ad esempio, puoi partire da un volume di ricerca sulla parola chiave. In genere, puoi scegliere te, ma ci deve essere consiglio comunque di inserire dei dati medi, quindi non troppo bassi, non troppo alti, perché altrimenti non riesci poi comunque a trovare parole chiave interessanti. Quindi volume di ricerca, ad esempio, da un minimo di 5.000, volume di ricerca mensili a un massimo, che so, di 40.000. Allora, è ovviamente un esempio. Entrate mensili da un, consideriamo comunque che qui si tratta di lordo, non di margine netto. Margine netto siamo sul 30%, in genere su un prodotto, in media ovviamente ci sono casi e casi. Comunque direi di partire da un 8.000 euro di entrate mensili, ad un massimo di, ora non lasciamo vuoto, ma cerchiamo comunque una fascia, anche qui magari siamo sui, possiamo mettere 40.000 al mese, massimo. Prezzo consiglio un minimo almeno di 20 euro, anche 25 volendo, però facciamo di 20 ad un massimo di 50. Questa, recensioni qui lasciamo vuoto e conteggio di parole almeno due, ovvero che la parola chiave è composta da due parole, ad esempio cappello rosso. In questo modo si va a trovare delle parole chiave un po' più specifiche e non troppo generiche, dove ovviamente troveremo tantissima concorrenza. Ovviamente questi sono solamente dati di esempio e cos'altro facciamo? Andiamo a inserire sia il tipo di, la taglia di spedizione sarebbe meglio mettere, anzi facciamo così, si può direttamente usare quest'altro filtro qua di logistica, si mette FBA. Quindi direttamente diciamo prodotti, cioè parole chiave che in genere viene utilizzate, in cui viene utilizzata la logistica FBA, però possiamo anche lasciare vuoto per trovare anche la gestione dei seller. Quindi diciamo, era un modo per trovare diciamo prodotti più vendibili in FBA, che è la cosa che consiglio, perché in FBA diventi Prime, i clienti ti acquistano più facilmente e deleghi tantissimo della tua attività. Quindi fai fare ad Amazon tutto l'aspetto logistico. Comunque sia, se vogliamo circoscrivere la ricerca dei prodotti vendibili in FBA, a questo punto mettiamo taglia di spedizione e mettiamo standard. Eccolo qua, standard, standard e basta direi, va benissimo. E standard, quindi fleghiamo gli standard e siamo a posto. Quindi va benissimo questo qua. Non large, ovviamente, o small, sono troppo piccoli. Lasciamo questi. E poi cosa facciamo? Categorie, bisogna selezionare una categoria, ma qui d'esempio metterò tutte, giusto per esempio, per trovare un po' tutti i prodotti, ma consiglio di andare ovviamente a vendere prodotti che sono in sintonia con te. Quindi dovrai scegliere una categoria che è in sintonia con te. Perché se vendi un mouse, devi utilizzare dei mouse, non puoi andare a vendere dei prodotti che te personalmente non utilizzi. Questa cosa è fondamentale, perché se te vendi un prodotto che non utilizzi, ovviamente i clienti lo sentano. Uno dice, come fanno a sentirlo? Lo sentano perché c'è un'energia di altri prodotti che vai a vendere. C'è proprio un modo di comunicarlo. E quella cosa lì si sente, lo avverti e dici, ma che cosa mi sta vendendo? E quindi poi i clienti si lamentano, lasciano recensioni negative, eccetera, eccetera. Qui mettiamo tutti i prodotti, ovviamente ce ne sono alcune categorie inutili come CD e vinili e così via. Vabbè, lasciamo un po' tutto selezionato. E qua useremo il filtro, di cui ho già fatto un video che ti linko qua sopra, fondamentale. In questo modo scremeremo tantissimo le parole chiave che troveremo. Quindi titolo, densità, e questo va il filtro. E partiremo da un minimo di 0 a un massimo di, facciamo finta, 5. Cosa vuol dire? Vuol dire che troveremo in questo modo parole chiave dove in prima pagina ci sono solamente prodotti, ci sono solamente un massimo di 5 prodotti che hanno quella parola chiave lì nel titolo. In questo modo vuol dire che di competizione ce ne sarà pochissima. Quindi da 0 a 5 e poi andiamo a questo punto di cercare. È tutto improvvisato, quindi non so se troveremo qualcosa, ovviamente. Come sai, io faccio tutti i video molto improvvisati. Vediamo se troviamo delle parole chiave. Ne abbiamo trovate 153. Ok, già qualcosina. Andiamo a vedere, qua troviamo i vari prodotti. Quindi ci sono diversi, più che prodotti, troviamo le parole chiave come ho detto prima. In base a quello noi vediamo i volumi di ricerca e tutti i resti. Ovviamente siamo in un periodo di carnevale, quindi ovviamente troviamo tutte le parole chiave relative al carnevale perché hanno dei trend molto alti, più alti e che rispettano più requisiti ovviamente con 0 prodotti in prima pagina perché ci sono pochi prodotti stagionali in genere. Quindi qua uno deve scorrere, devi scorrere e trovare le parole chiave più interessanti. Ovviamente che rispecchiano il tipo di prodotto che potresti andare a vendere. Ad esempio, bollitore acqua elettrico piccolo, adesso è un prodotto elettronico e non consiglio in genere di vendere i prodotti elettronici perché hanno spesso problemi e tanti resi, però dipende. Se trovi un buon prodotto e hai tutte le autorizzazioni potresti farlo. Comunque un esempio, bollitore acqua elettrico piccolo, vediamo che ha 9.000 volumi di ricerca, venduto a 22 euro fa 8.000 euro al mese su questa parola chiave qui. Quindi cosa facciamo? Andiamo ad aprirlo su Amazon e uno può partire da un bollitore per capire da questa parola chiave qui se poi effettivamente c'è una domanda oppure no. E ovviamente qua vediamo che in prima pagina ci sono solamente tre prodotti che hanno esattamente questa parola chiave qui nel titolo. Quindi che cercano bollitore acqua elettrico piccolo, i clienti troveranno solamente tre prodotti con questa parola chiave qui esatta nel titolo. Poi di bollitore ovvio ce ne sono tanti, però piccolo magari non lo cercano in tanti. E quindi da qui uno può iniziare a aprire l'estensione e andare a vedere esattamente che cosa succede all'interno di questa micchia. Quindi appena carica, ovviamente è tutto live, quindi ci possono essere anche dei rallentamenti. E che cosa facciamo? Andiamo a vedere come è messa questa parola chiave qui. Quindi bollitore acqua elettrico piccolo, che cosa succede. Questa auto via ovviamente è un esempio, ma lo puoi fare quando trovi un prodotto a te interessante di andare dentro e fare lo stesso processo che sto facendo io. Quindi una volta messi tutti i filtri prima, poi qui ordini per fatturati, per vedere i fatturati come sono. Comunque c'è una possibilità di entrare, si vede dai fatturati. Appunto siamo sui 10.000 euro al mese. Ovviamente è un esempio, ognuno deve cercare quello che è più in sintonia con sé, però qua si vede anche i volumi di ricerca. Quindi vediamo che non è proprio stagionale, in realtà è in crescita. Si vede che ha fatto dei picchi, poi ovviamente il bollitore in genere si cerca più di inverno magari. Però non è propriamente stagionale, comunque si vede un trend di crescita e questo è interessante per chi si posiziona e magari vede il lungo periodo. Qua si vede comunque dei picchi sempre più alti. Potrebbe aver senso. Come si fa? Una volta fatto questo vediamo anche gli altri dati, quindi il fatturato medio, il prezzo medio sono 25 euro, ok? Le recensioni sembrerebbero abbastanza alte, quindi anche qui se la competizione è troppo alta bisogna anche capire se riusciamo a differenziarci. Quindi andare poi a analizzare ogni singolo prodotto che diciamo, cioè ogni singolo prodotto nel senso che guardiamo da qui dentro capiamo più o meno che cosa c'è e quindi come ci si può differenziare, quindi capire altri nuovi modelli e così via. Quindi si va poi dentro ad esempio uno dei prodotti più venduti e capiamo anche che cosa ricercano i clienti. Tutto questo ovviamente si fa con Helium 10. Quindi ad esempio se questo è quello che fattura di più Philips, ora Philips magari è una marca già conosciuta, ma ad esempio Extra Star non so, non l'ho mai sentita. Cosa facciamo? Entriamo sul suo prodotto e possiamo andare a vedere esattamente per poterci differenziare che cosa cercano i clienti. Quindi andare direttamente nella sua pagina prodotto, aprire l'estensione, andare su Review Insight e vedere che cosa dicano i clienti, di che cosa hanno bisogno, che cosa diciamo quali sono i loro interessi e quindi andare a capire come possiamo differenziarci noi e questo è un modo. Andando direttamente anche nelle domande o nelle recensioni, andare a vedere che cosa scrivono di più i clienti e quindi capire se possiamo noi andare a soddisfare quello che dicano i clienti. In questo modo ci ha trovato 984 recensioni. Ce le metti in ordine per le parole chiave. Vediamo che cercano i clienti un bollitore facile da pulire. Che è scritto il più delle volte quindi dobbiamo sicuramente ideare nel caso un bollitore facile da pulire. Anche qui lo ripetano. Si vede ok? Quindi molto semplice. Poi per differenziarci oltre a vedere sia le recensioni qui anche le domande che fanno i clienti possiamo vedere la quantità minima di acqua da poter riscaldare. Ecco quindi andare a cercare poi evidenziare questi punti nel nostro prodotto. Andiamo possiamo anche tranquillamente utilizzare che cosa? Direttamente la ricerca su magnet. Ti lascio qua sopra il link a come si utilizza magnet per trovare appunto altre parole chiave partendo da questa. Quindi noi abbiamo trovato che bollitore acqua elettrico magari è una parola chiave interessante ma vogliamo differenziarci. Quindi per differenziarci ovviamente dobbiamo trovare anche possibili altre parole chiave che cercano i clienti. Quindi aprendo magnet come ti ho fatto vedere direttamente da black box da qui. Da magnet noi andiamo dentro e vediamo altre parole chiave che compaiono correlate. Come sempre ordiniamo per volume di ricerca e vediamo che cosa ci viene fuori. Quindi volume di ricerca vediamo c'è bollitore elettrico e quindi anche qui cosa facciamo? Utilizziamo il filtro di prima densità a titolo quindi mettiamo da 0 prodotti in prima pagina a massimo 5 e applichiamo il filtro e vediamo quante ce ne trova. 2100 parole chiave comunque sono tantine ma ordinandole per volume di ricerca ovviamente prenderemo quelli che hanno volumi più accettabili e qua vediamo ad esempio bollitore acqua elettrica appunto ce lo ritrova piccolo. Anche qui piccolo c'è cosa ha 7000 volume di ricerca quindi sicuramente ne cercano uno piccolo e potrebbe magari avere per esempio bollitore elettrico piccolo a 0 prodotti in prima pagina su questa parola chiave qui e quindi potrebbe aver senso. Ecco ovviamente ripeto è solamente un esempio e così si fa con tutto il resto. Si cercano ad esempio bollitore elettrico vintage insomma ci sono tantissime altre sottocategorie che possiamo andare a trovare per poterci differenziare e vendere e andare a posizionare un prodotto che è in sintonia con noi direttamente utilizzando tutti gli strumenti di Helium 10. Ovviamente se dovesse fare un video completo mi chiederebbe molto più tempo questo va diciamo un video per farti capire come si fa una ricerca di mercato in modo semplice e questo è quanto. Direi che per questo video è tutto e noi ci vediamo in un prossimo video relativo ad Amazon. Grazie ancora di cuore.